Gentili telespettatori, benvenuti con il nostro telegiornale regionale. In apertura parliamo di una drammatica notizia, perché a Porpetto un uomo è stato investito mentre si trovava in sella la sua bicicletta da un furgone e per lui non c'è stato nulla da fare. Tragico incidente questa mattina, venerdì 20 novembre, all'alba, intorno alle 7 del mattino, lungo una strada comunale della frazione di Corniolo di Porpetto. Per causa in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Udine, intervenuti immediatamente sul posto con una pattuglia, un furgone è andato ad impattare contro un ciclista. La dinamica è ancora da chiarire. A dare l'allarme è stato lo stesso conducente del camioncino, che ha chiamato il 118 e che è sceso dal mezzo, a bordo del quale stava per andare al lavoro, e ha cercato di prestare i primi soccorsi, per quello che ha potuto, in base alle sue nozioni di aiuto a persone ferite. Sul posto sono corsi sanitari con un'autoambulanza. Hanno trovato il ciclista a terra, privo di conoscenza, già in gravissime condizioni. L'equip medica ha fatto tutto il possibile per salvarlo, ma nonostante la lunga rianimazione, il cuore dell'uomo non è ripreso a battere. L'uomo è morto. Ed è tutto verosimile che il drammatico schianto sia stato concausato dal fitto muro di nebbia, che in questa zona, nella bassa friulana, ha ridotto di molto la visibilità. Sul posto anche i vigili del fuoco. È stato avvisato il PM della Procura della Repubblica di Udine. Il conducente del mezzo sarebbe rimasto illeso, ma sarebbe sotto shock. Sono molti gli appassionati di caccia ed è sicuramente bello avere degli amici cacciatori con cui poter passare delle giornate tra i campi. Ma a Maiano è successo che due cacciatori amici hanno litigato tra di loro e la lite si è conclusa a fucilate. La passione per l'arte venatoria annovera molti fedelissimi nel territorio della nostra provincia e grazie a questo hobby si stringono legami che si cementano poi nel tempo. Tuttavia un'amicizia di lunga data ieri mattina ha rischiato di interrompersi bruscamente. Un litigio nato infatti per una stupidaggine tra due cacciatori nella zona di Maiano ha rischiato di sfociare in tragedia. Da uno scherzo dal nulla, percorro io per primo il sentiero da caccia, non tu, dice uno all'amico e da quella frase si scatena l'inferno, si poteva derivare un fatto grave. Uno dei due amici, 63enne DC del posto, per aver ricevuto gli insulti, dei riproveri e delle precise rimostranze del compagno di caccia è passato dalle parole alle vie dei fatti, impugnando con arte la doppietta da prima la puntata contro il collega di battuta e poi la rivolta verso l'alto esplodendo a colpo intimidatorio ripetuti colpi di arma da fuoco. Il fatto è che quegli spari hanno attirato subito l'attenzione dei residenti che abitavano in quella zona. Sono stati proprio loro a chiamare spaventati i carabinieri che sono intervenuti subito nei campi. Grazie ai militari dell'arma è tornata la pace, ma è stato necessario sequestrare l'arma da fuoco alla 63enne che tra l'altro si è beccato una denuncia per minaccia aggravata nei confronti del suo caro amico, ormai diventato ex compagno di caccia. Si è riaperta la campagna vaccinazioni a Pordenone proprio per combattere quella che è l'influenza, sono terminati i vaccini. Influenza, la beffa dei vaccini, già perché in provincia non ci sono più dosi, tutte finite e i ricambi non arrivano da tempo. Non solo mancano da vaccinare ancora parecchie persone. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti in arriva all'ivenza che sono stati rispediti a casa perché non erano disponibili i vaccini. Abbiamo ricevuto, ha sottolineato il medico di famiglia sacilese Placido Fundarò, a nome anche dei colleghi, le prime 100 dosi di vaccino che abbiamo utilizzato per i nostri pazienti, dopodiché la fornitura è stata bloccata, senza informazioni precise su quando riprenderà. Credo, ha aggiunto, che non si tratti di un problema che riguarda solamente Sacile, ma anche l'area... Ma da notizie che abbiamo raccolto riguarda l'intera area vasta della Friuli occidentale. In effetti le dosi di vaccino mancano non solo ai medici di medicina in generale dell'intera provincia, ma anche nei distretti, dove le persone si prenotano per le vaccinazioni anti-influenzali. A spiegare cosa sia accaduto il responsabile del dibattimento di prevenzione, Lucio Bombè. È vero, ha ammesso, c'è un problema, ma non interessa solo il distretto sacilese e la provincia, ma l'intera regione. A mancare all'appello, nonostante fosse stato ordinato da tempo, il vaccino di un'azienda che non lo avrebbe consegnato. Insomma, sarebbe stata interrotta bruscamente la consegna, facendo mancare di conseguenza il farmaco ai medici di famiglia, ai distretti e a tutte le sedi sanitarie. Bombè ha anche fatto presente che già da oggi dovrebbero arrivare le nuove scorte con un vaccino fornito da un'altra ditta e immediatamente partiranno le consegne. Resta il fatto che almeno sino a lunedì non sarà possibile rifornire tutti i presidi medici dell'area vasta. Lucio Bombè ha anche assicurato che nessun problema ha riguardato la vagizanziale delle persone a rischio e degli operatori sanitari. C'è allarme terrorismo in tutta Italia e a Udine sono stati blindati i confini del Friuli Venezia Giulia. Allora vediamo bene di cosa si tratta nel prossimo servizio. Roma invierà rinforzi ai confini del Friuli Venezia Giulia. La decisione sarà presa a breve e fa seguito all'approvazione da parte del governo dell'ordine del giorno presentato da Walter Rizzetto e sottoscritto anche da Sandra Savino, Aris Prodani e dal verdignano Ignazio Abrigani. Rizzetto aveva predisposto l'interrogazione facendo seguito all'allarme terrorismo lanciato dal procuratore capo di Trieste Carlo Mastelloni che aveva denunciato la mancanza del 30% di forze dell'ordine a Trieste. Una mancanza, aveva detto, che renderebbe la nostra risposta al terrorismo meno efficiente anche in vista del giubileo indetto dal Papa. Così, nel chiedere al governo misure più efficiente dirette a garantire maggiore sicurezza in Italia per contrastare possibili attacchi terroristici, il deputato Rizzetto aveva anche suggerito al governo di prevedere in particolare la predisposizione di misure di controllo dei confini della Friuli Venezia Giulia, dirette a salvaguardare la suddetta regione dal rischio di infiltrazioni terroristiche provenienti dai Balcani, considerando l'allarme lanciato dal procuratore capo di Trieste ed esperto di terrorismo internazionale Carlo Mastelloni. Immediatamente dopo l'appello di Mastelloni, la direttrice della quarta zona polizia di frontiera Irene Titoni aveva però ridimensionato la vicenda, affermando che al momento in Friuli Venezia Giulia non è prevista alcuna intensificazione della presenza di risorse umane ai confini perché non esiste ancora una minaccia diretta e se lo è è vaga nella misura per cui può riguardare tutto il territorio nazionale. Il via libera del governo, commenta Rizzetto, è davvero una bella notizia per il Friuli Venezia Giulia. Ora attendo la comunicazione del Viminale. Credo il ministro Alfano si attiverà immediatamente e quanto prima avremo l'ufficializzazione dell'implementazione delle forze di polizia alle nostre frontiere. E la notizia, ancorché in maniera ufficiosa, è già rimbalzata anche tra le forze di polizia, i cui sindacati confermano che già ieri si parlava del possibile rafforzamento della presenza ai confini regionali. Intanto proprio da Trevisio, anche ieri è arrivata la conferma che il flusso dei migranti che arrivano in treno non cessa. Ieri a Trevisio sono arrivati 92 profughi, confermando che ormai gli ingressi settimanali si aggirano tra le 400 e le 500 unità. Un numero che il sistema di accoglienza messo in atto dalla nostra regione riesce ancora ad ammortizzare, anche se da adesso in poi si dovrà fare i conti con il freddo e quindi sarà necessario individuare luoghi di ricovero per le centinaia di persone che ancora vagano nelle città capoluogo. Parliamo ora del Friuli Venezia Giulia e del premio Assore. C'è una menzione speciale per Oltre Castello, la collana di guide di Autovie Venete, con l'obiettivo di aumentare quella che è la sicurezza e promuovere il territorio limitrofo all'uscita della rete autostradale. Menzione speciale per le guide Oltre Casello, la collana editoriale di Autovie Venete, pensata con un duplice obiettivo, aumentare la sicurezza e promuovere il territorio limitrofo alle uscite dalla rete autostradale. Il prestigioso riconoscimento assegnato dall'Associazione Italiana delle Agenzie di Relazioni Pubbliche è stato consegnato durante la cerimonia di premiazione condotta dalla giornalista del TG Simona Branchetti, che si è svolta mercoledì 18 novembre a Milano, a Palazzo Parigi, a due passi dal quartiere Brera. Il progetto editoriale presentato nella categoria Comunicazione per la valorizzazione del patrimonio artistico e territoriale è stato segnalato come uno dei migliori fra quelli realizzati nel 2015. L'iniziativa, ideata da Eco Comunicazione d'impresa di Claudio Rossetti, prevede la pubblicazione di una serie di volumi, sono 5 fino ad ora quelli realizzati, in formato pocket, quindi perfetti da tenere in auto e finalizzati a diffondere tra i viaggiatori la cultura del turismo d'autostrada. Interrompere il viaggio con una sosta, infatti, permette di ripartire più riposati e contemporaneamente di scoprire luoghi ricchi di storia e tradizioni. Alla cerimonia di premiazione erano presenti numerosi rappresentanti delle istituzioni, dal comune di Milano alla regione e parecchie personalità di spicco, fra le quali Giuseppe Sala, il commissario unico per l'Expo del 2015, al quale è stato consegnato un premio alla carriera. Molto soddisfatto per il riconoscimento assegnato a oltre casello, il presidente di Autovie Venete Emilio Terpin ha sottolineato la filosofia che sta alla base del progetto, contribuire a sviluppare una cultura della sicurezza e valorizzare l'area e l'opera della concessionaria, un territorio speciale ancora troppo poco conosciuto. Ritengo che attività del genere per la società come Autovie Venete siano un dovere, un modo per condividere la crescita delle comunità locali. Distribuite gratuitamente attraverso gli infopoint di Turismo Friuli Venezia Giulia, le guide sono disponibili anche in versione digitali e scaricabili dal sito www.autovie.it della concessionaria. E a Udine è stato presentato il nuovo album del polifonico, interamente dedicato a quello che è il folclore friulano, ed è stato proprio presentato in provincia. Il nuovo album del coro polifonico di Ruda a Riflessi è stato presentato in provincia alla presenza del presidente Pietro Fontanini, del maestro del polifonico Fabiano Noro, del presidente Adriano Pelos e del musicologo Alessio Screm, autore delle note introduttive al CD. L'elegante confaretto contiene anche il CD Ricguardi e un temp, accompagnato dall'omonimo volume, pubblicato nel 2013 e interamente dedicato al folclore friulano. Un lavoro che la provincia di Udine ha voluto sia per sottolineare l'ancoraggio alle radici del coro, sia per evidenziarne la sua dimensione internazionale che in questi anni lo ha portato a vincere ben 25 primi premi ai più importanti concorsi corali del mondo. Il polifonico di Ruda rappresenta un'eccellenza musicale del nostro territorio. La provincia di Udine è orgogliosa di presentare l'ultimo lavoro di questa prestigiosa formazione corale, che ha sperimentato diversi generi e tutti con eccellenti interpretazioni. Con le varie performance a livello internazionale e le partecipazioni a concorsi mondiali, da lustro alla nostra terra, alle sue tradizioni e dai suoi valori. Così si è espresso il presidente Pietro Fontanini, che ha formulato i complimenti alla formazione corale, al maestro Fabiano Noro e al presidente Adriano Pelos, rinnovando l'intervento della regione a sostenere con maggiore convinzione questo progetto musicale. Si tratta di una delle compagnie molto apprezzata a livello internazionale, che valorizza la Marilenge e gli autori di Casa Nostra, ha aggiunto. In questa sua prestigiosa e impegnativa attività, che molto spesso lo porta ad essere testimone nel nostro territorio, il polifonico di Ruda deve essere supportato in modo puntuale dalla regione, inserendo il gruppo negli accreditamenti triennali previsti dalla riforma. Ai nostri microfoni ha parlato la presidente della regione Friuli Venezia, Giulia Deborah Serracchiani, sul tema della premiazione al lavoro. Sicuramente l'attenzione da parte della regione, le tante riforme che sono state fatte, adesso la necessità di mettersi a correre in un contesto in cui finalmente i dati economici sono positivi e naturalmente abbiamo anche tante preoccupazioni che vengono da quello che sta succedendo nel mondo, ma insomma siamo una regione che ha intenzione davvero di fare la propria parte. E cosa vorrete fare in più nel 2016? Intanto le politiche per la casa, poi abbiamo una legge di stabilità finalmente espansiva che ci permetterà di fare investimenti e quindi auspichiamo che possa ripartire l'edilizia, anche la piccola economia e perché no anche riuscire finalmente a portare avanti le nostre grandi infrastrutture. Il calo della leva fiscale statale porterà anche a delle riduzioni per i comuni, come potranno essere compensati? Intanto questa è una regione che negli ultimi due anni non ha alzato le tasse, ha mantenuto lo stesso livello di tassazione, anzi siamo riusciti a fare anche qualche intervento interessante per quanto riguarda il costo alle imprese, in particolare per quanto riguarda l'IRAP. Siamo consapevoli che veniamo incontro ai cittadini sul livello nazionale non facendo pagare loro la tassa sulla prima casa, ma siamo altrettanto consapevoli e il governo in questo è stato molto chiaro che devono essere date le risorse corrispondenti per quanto riguarda i comuni. Del resto la regione Friuli Venezia Giulia ha già messo in sicurezza le risorse per i comuni, ricordiamoci che questa è la prima legge di stabilità regionale nella quale tutte le risorse dei comuni vengono messe in bilancio senza attendere l'assestamento. 433 milioni di euro, 38 milioni in più. Gentili telespettatori vi ringrazio per averci seguito anche in questa edizione del telegiornale regionale, vi auguro un buon proseguimento di serata e soprattutto una buona conclusione di weekend.